John Borno ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo video di news di mercato. Ve l'ho già detto ieri, ve lo ribadisco oggi. Solitamente preferisco occuparmi la mattina di quello che riguarda il mercato che farei, il pomeriggio delle top 10 e la sera appunto di una notizia di mercato. Però quando c'è una notizia così calda e in moltissimi me l'avete chiesto, mi sembra doveroso andarne a parlare. Perché oggi il quotidiano catalano sport lancia una bomba, a mio modo di vedere, non indifferente. Ma prima di iniziare vi voglio assolutamente chiedere di iscrivervi al canale. Come vedete dal grafico qui in basso, molti di quelli che mi seguono non sono iscritti al canale. Sinceramente questa è una cosa che mi dispiace molto. Se mi seguite, magari anche tramite consigli eccetera, iscrivetevi perché voglio arrivare rapidamente a mezzo milione di iscritti e mi farebbe molto felice riuscire a raggiungerli rapidamente. Quindi iscrivetevi e lasciate tantissimo piace per altre news di mercato. Fatemi sapere qua sotto, secondo voi, anche chi di questi nomi di cui parleremo in questo video prenderà la Juventus. Vi dicevo Sport lancia la bomba il quotidiano catalano Sport e parla di un colpo di scena che c'è già all'accordo tra le parti tra Ousmane Dembélé e la Juventus. E questo porterebbe Ousmane Dembélé a giugno ad essere un nuovo calciatore della Juventus. Perché qualcuno dirà, ma perché si parla di giugno se c'è il mercato di gennaio? Perché il mercato di gennaio, anzi gennaio è un mese molto caldo anche per i giocatori che a giugno andranno in scadenza. Perché dal primo di gennaio saranno possibilitati, avranno la possibilità di accordarsi con qualunque altra squadra con un precontratto per accasarcisi poi a giugno. E quindi anche in questo caso andiamo a parlare di quei giocatori che andranno in scadenza. Il Barcellona lancia l'ultimatum, aveva lanciato l'ultimatum un mese fa a Dembélé. Gli ha detto, guarda, tra sei mesi scati circa, devi rinnovare entro il 15 di dicembre. Se non rinnovi entro il 15 di dicembre, per noi puoi anche andartene. Probabilmente perché il 15 di dicembre avevano previsto di fare un resoconto per capire mosse di mercato, per capire come si sarebbe dovuto muovere, scusate la ripetizione, il Barcellona e sul mercato e sui giovani futuri eccetera. Quindi probabilmente avranno fissato una sorta di brainstorming nel quale un po' di uomini del Barcellona raccoglievano idee per cercare di capire come formare la squadra del futuro e bisognava capire che Dembélé sarebbe rimasto dentro o fuori. Probabilmente è quello che viene di pensare e da pensare per l'ultimatum fissato proprio al 15 di dicembre. E l'ultimatum c'è stato ma il giocatore, Osman Dembélé, non ha risposto, né positivo né negativo. Non ha rinnovato il proprio contratto e ora tra due giorni, quindi dopo domani, potrebbe accordarsi a zero con chiunque. Dembélé apprezza tanto l'Italia e avrebbe molto piacere, da quello che si dice, da quello che dice lui e da come parla anche il suo procuratore, tra l'altro Moussa Sissoko, avrebbe molta possibilità a decidere di venire in Italia perché gli piace molto l'Italia, gli piace molto il calcio italiano, l'unico ma, nonostante un accordo di massima che c'è già stato e probabilmente tra due giorni andrà anche messo nero su bianco, è il discorso Paris Saint-Germain perché nell'ultimo periodo il Paris Saint-Germain sembrava essersi fatto timidamente avanti per il giocatore. Quindi il giocatore che cosa ha detto? Ha detto al momento, ha pensato al momento, io sto al Barcellona ma tra qualche giorno potrò accordarmi, se il Paris Saint-Germain non si fa avanti allora io volentieri firmo con la Juventus, quindi già dal primo di gennaio probabilmente sapremo se l'accordo effettivo sarà poi ufficializzato e quindi Dembélé a giugno sarà un nuovo giocatore della Juventus io sapete che è un po' rosico, ma perché? Perché vederlo andare alla Juventus a me fa molto male io ve ne parlai spesso di Dembélé, ora ci arriviamo, innanzitutto vi ricordo che è stato pagato 135 milioni di euro dal Barcellona un po' come dire come buttare i soldi nel cesso, il Barcellona ha buttato dopo la dio di Neymar non ci hanno più capito un cazzo, hanno iniziato a buttare i soldi nel cesso come se piovessero e Dembélé e Griezmann e ce n'era un altro che adesso mi sfugge, hanno speso un sacco di soldi Coutinho, il Barcellona ha gettato soldi a destra e manca in modo piuttosto stupido non riuscendo poi effettivamente mai a trovare un sostituto vero e proprio di Neymar quindi che cosa succede? Succede che questo giocatore pagato 135 milioni si fa i suoi 5 anni di contratto a giugno va in scadenza e lascerà il Barcellona a parametro zero perché vi dicevo che è rosico? Ora sinceramente io non credo mai che la Roma possa prendere Dembélé certo che in realtà a livello di spese magari uno ci può anche pensare nel senso comunque che la Roma anche con l'acquisto tra mille virgolette di Murigno la firma di Murigno ha iniziato a capire che comunque economicamente parlando può permettersi determinati colpi però comunque la Roma non si è fatta avanti io amo questo giocatore, mi conoscete, lo sapete, io vi parlavo di lui dai tempi del Ren ricordo che io avevo questa usanza con la mia famiglia che ogni venerdì sera andavamo a mangiare una pizza, proprio una pizza a testa in questo posto dove non avevano Sky non avevano Sky, non mi ricordo, fatto sta che facevano vedere ogni venerdì sera la Ligan e non so perché quell'anno lì, quella stagione lì praticamente su tre partite di venerdì sera due erano del Ren e quindi io guardavo il Ren, conoscevo tutti i calciatori del Ren e ero rimasto folgorato, innamorato da questo calciatore Osman Dembele, giovanissimo che però era una gazzella e si vedeva che sarebbe diventato fortissimo tant'è che poi è stato preso dal Borussia Dortmund e quando il Borussia l'ho preso io vi dissi vedrete che questo se ne andrà tra un anno, tra due anni a tipo almeno 50-60 milioni è stato acquistato, poi i prezzi sono saltati per la radio di Neymar e tutto quanto a 135 milioni di euro e quindi sapevo che avrebbe fatto bene qual è il problema di Dembele, regà? Il comportamento cioè Dembele ha avuto sempre problemi a livello comportamentale ha avuto sempre problemi di qualunque tipo che hanno dato una sorta di hanno portato una sorta di caos in un ambiente come quello del Barcellona che è un ambiente che non vuole caos perché poi il Barcellona, e ce lo insegna Guardiola leggerevi il libro Io e Ibra di Zlatan Ibrahimovic dove parla nel dettaglio di questa cosa di come il Barcellona già ai tempi di Guardiola con Messi e tutto quanto erano dei soldatini avere dei giocatori che invece ti portano a doverli sgridare a destra e sinistra non fa parte dello stile Barcellona e questo è stato un programma molto grande per Ousmane Dembele in questo momento potrebbe essere fuori dagli schemi in realtà l'idea di Xavi secondo me non era questa perché poi se andiamo a guardare in realtà cioè uno guarda le partite dice ha fatto quattro partite in croce ma non è così lui è stato infortunato al ginocchio se non sbaglio per quattro mesi in questa stagione in questa stagione ha saltato quattro mesi per un infortunio al ginocchio è tornato appena è tornato ha fatto due partite da subentrato e ne ha giocato tre da titolare nelle tre da titolare che ha giocato con Xavi in panchina ha fatto due assist nelle ultime due tra l'altro due assist decisivi uno per una vittoria 1-2 uno per un Parigi 1-1 se non sbaglio contro il Sevilla quindi tutto ciò che ha fatto Dembele in questa stagione da quando è tornato ha stato decisivo ed è stato centrale nel progetto del Barcellona però appare che lui non voglia rinnovare dove gioca Dembele? Ousmane Dembele non ve lo devo spiegare certamente io in che ruolo gioca alla destra ma può giocare anche alla sinistra non è un problema e soprattutto questo aiuterebbe tanto la Juventus che vuole costruire un progetto futuro con spese non così tanto esose quindi quasi a zero tra entrate e uscite e gli permetterebbe di avere sulle due fasce Dembele e Chiesa quindi avrebbero senz'altro due giocatori straordinari ha vinto tanto in realtà Dembele nonostante ci abbia 24, 23, 24 anni quindi si è ancora molto molto giovane e abbia ancora una carriera davanti quindi la Juventus farebbe un colpaccio secondo me questo sarebbe un voto 10 e io ve lo dico ragazzi questo sarebbe un voto 10 dov'è prendo un top player a parametro a zero a 23 anni pagato 150 milioni 5 anni prima quando ce ne aveva 18 ma di che parliamo quanti anni c'ha? 23, 24 ha vinto un giocatore dell'anno in Bundesliga due coppe del re un mondiale con la Francia ha vinto due liga col Barcellona ha vinto una coppa tedesca ha vinto una supercoppa spagnola certo che speso si è oscurato per tutti i problemi che c'ha avuto però comunque non mi sembra che faccia poi così male Dembele quindi quando c'è quando non è stupido riesce comunque a rendere tanto quindi se fossi la Juventus mi catapulterei sopra subito e se Sport ha ragione se c'è davvero l'accordo tra Juventus e Dembele allora questo potrebbe essere veramente un colpo da 10 però oggi si è parlato anche di un altro giocatore anzi di due giocatori per quanto riguarda la Juventus perché la Juve sarebbe interessata anche a Memphis Depay ma perché la Juventus sarebbe interessata a Memphis Depay? qua c'è un giro gigantesco da fare pare che Xavi abbia individuato in Morata il futuro titolare del Barcellona lui vorrebbe un attaccante leggero e sarebbe pronto a prenderlo immediatamente per fargli fare l'attaccante leggero titolare del Barcellona visto che deve fargli fare il titolare del Barcellona questo andrebbe ovviamente a dire a Depay Depay tu se vuoi rimanere rimani però non saresti il titolare del Barcellona ora che succede? Morata è della Juventus ma essendo della Juventus non è esattamente della Juventus o meglio è di proprietà dell'Atletico Madrid Atletico Madrid che ha dal Barcellona Griezmann e quindi hanno un rapporto di amore sotto questo punto di vista in cui l'Atletico deve dare dei soldi al Barca per Griezmann e glielo darà perché Griezmann sta facendo bene detto questo la Juventus dovrebbe pagare 40 milioni di riscatto di Morata soldi giganteschi e il Barcellona sarebbe disposto a pagare 40 milioni per Morata quindi qual è l'idea? l'idea è quella di rimandare a casa Morata la Juventus compra Depay a 40 milioni di euro quei 40 milioni di euro vengono dati all'Atletico Madrid per Morata in questo modo l'Atletico Madrid avrebbe dei soldi tra l'altro da ridare al Barcellona quindi uno sconto per Griezmann così facendo l'Atletico per Griezmann dovrebbe pagare dei soldi la Juventus pagando solamente i soldi che doveva l'Atletico per Morata avrebbe Depay il Barcellona che voleva Morata non spenderebbe nulla perché 40 milioni li prende da Depay che tra l'altro ha preso a parametro zero un po' di tempo fa tipo 6 mesi fa e 40 milioni li dà all'Atletico Madrid per prendere Morata e tutti sarebbero molto contenti questo è quello di cui si parla tra l'altro Depay è partito anche discretamente bene perché in questa prima parte di stagione ha fatto 15 partite in campionato e ha fatto 8 gol e 2 assist quindi secondo me manco tanto male la domanda però che vi faccio è Allegri piace davvero Depay? perché comunque Depay è comunque un attaccante leggero cioè non è un attaccante fisicato non è una punta fisica non è una punta di peso e visto che Allegri più e più volte ha più riprese ha chiesto una punta di peso e ha detto che da quello che abbiamo capito Morata non è che gli andasse molto a genio per la titolarità per quanto riguarda la punta di peso secondo me cambiare Morata per Depay è comunque guadagnarci tanto perché Depay secondo me è molto più forte di Morata questo è il mio punto di vista voi potete essere d'accordo o non d'accordo però non avresti la tua punta di peso allora a questo punto si è parlato, si è detto si è fatto il nome di Scamacca che però per me non arriverà perché costa tanto per quello che vale è bravo ma adesso dovresti fare un investimento in più rispetto agli investimenti centrali cioè per me per prendere Scamacca dovresti dire io comunque sto a posto però se voglio fare un investimento prova a prendere Scamacca non lo fai perché la Juventus non sta a posto la Juventus ha in questo momento più buchi delle strade di Roma e quindi deve oggettivamente mettere prima a posto la propria situazione rispetto che potersi permettere di investire soldi per il futuro completamente a caso e quindi mi è venuto in mente il nome low cost di Milik cioè se tu riuscisi a prendere Depay più o meno cioè ugualmente hai questi soldi che dovresti spendere per Morata quindi non andando a gravare in nessun modo sul bilancio e prenderti anche Milik come vice o addirittura che magari questo scambio si fa a fine anno quindi tu te tieni Morata e Milik quest'anno e poi l'anno prossimo avrai Milik e Depay secondo me Allegri in questo caso avrebbe sia il titolarissimo Depay che è forte che la butta dentro che segna in ogni modo e sia anche Milik che fisicamente è il giocatore perfetto per Allegri quello che chi ha d'Allegri anche se a me Milik mi fa schifo l'ho sempre detto non lo volevo a Roma e meno male che non è venuto almeno in questo momento poi tra due anni vedrò questo video e dirò guarda Milik campione del mondo con la Polonia capocanoniere della Champions e di tutto e pallone d'oro però comunque e sarebbe il giocatore perfetto e quindi se Allegri vuole giocare e con la punta di peso e con la punta leggera può scegliere le due strade e avere due giocatori molto validi ora chiudendo il cerchio se Sport ha ragione Dembélé arriverà a giugno se si parla anche di Depay se si dovesse concretizzare anche l'operazione Depay l'anno prossimo potremo vedere una Juventus con Chiesa con Dembélé con Dybala e con Depay e in quel caso la Juventus andando a spendere praticamente nulla perché Depay riparrebbe con i soldi di Morata Dybala già ce l'hai Chiesa già ce l'hai e Dembélé riparrebbe a zero insomma riusciresti ad avere comunque un attacco stellare e riportarti comunque in auge senza dover spendere troppi soldi se non soldi dell'ingaggio che però sia chiaro perché poi qualcuno dice vabbè ma però non metti in conto che bisogna spendere un sacco di soldi per pagare lo stipendio ragazzi ricordatevi sempre che voi Juventus avete venduto Ronaldo e avete risparmiato 50 bombe l'anno e Ronaldo l'avete sostituito con Ken che prende due noccioline a confronto a Ronaldo prende veramente nulla prende due patatine e due popcorn quindi capite bene che il discorso non regge e che la Juventus potrebbe tranquillamente gettarsi su qualche calciatore profilo a parametro zero ma che prende tanto perché il monte in gaggio è stato non ridotto ma praticamente a zero a terra distrutto dalle ultime operazioni fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale voi da che parte state secondo voi Usman Dembele arriverebbe soprattutto lo vedreste bene la Juventus e i Juventini lo vorreste? grazie iscriviti tanti mi piace vuociono all'allen come sempre ci vediamo ad un prossimo video